eccoci sull'l1 wow guardate che skyline che panorama beautiful ragazzi siamo in paradiso anche oggi per ogni giorno un'avventura super mega ficca diciamolo pure ficca sì sì di nuovo in sella oggi si sale anzi oggi lo sviluppo ultimetrico sarà tipico di un tour di super enduro lambiremo i paesi di alassio la iguelia diana marina e andora guardate che spettacolo wow canalina croccante bello guarda qua guarda qua ragazzi che bella roccia anche questa mamma mia super guarda qualche location guaci raga mamma mia che show eccoci sull'l1 wow guardate che skyline che panorama beautiful ragazzi ed ora ci accingiamo ad affrontare il pistino stella così lo definiscono i local quindi godiamocelo e ammiriamone la bellezza wow ragazzi super saltino improvviso che non ci coglie di sorpresa ma che ci proietta verso una discesa che sono convinto vi piacerà anche perché mi sembra di capire che le difficoltà in questo limbo non siano estreme pistino stella e quindi si gioca un 2 3 stella fermo lì ti ho visto ti ho visto ti riprendo il ripiglio bello 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 il toboghino guardalo qua radicioio bello super crocs bello wow 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 ora siamo sul carrubo bello questo è un wide streaming little close con qualche rocks ma veramente suggestivo guardo qua mamma mia che sound che sound non è velocissimo tutto guidato dove fare passare la bici al millimetro guarda perché toppa ogni tanto siamo già alla fine purtroppo ed ora 106 levante verde sentiero cramboloso non dovrebbe essere nulla di complicato che ci riporterà giù per la seconda salita della giornata e quindi verso diana marina successivamente guardate com'è smosso wow bello ci piace ci piace ci piace approvato per adesso ho provato occhio il bugo bugo wow show 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 yes il lancino lasciamo la scorrere per tornare di nuovo giù guarda questi sassolini pungenti occhio al caone centrale ora tratto arancione quindi medio vediamolo cosa ci riserva questo tratto bello sono racce belle ferme il terreno è bello asciutto ma è veramente gripposo ancora sassolini tratto di trasferimento prima della seconda discesa questo bellissimo trail mangia e bevi tipico ligure ma veramente figo inizia la discesa finalmente un po di crocs sotto le nostre ruotine classe un po di vertical bello bello ragazzi ora abbiamo un little smosso guardate quante stradine che può sentire che si interfacciano lasciamola scivolare giù little compressione wow 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 yes come patentezza guardate ti senti come batte forte il cuore in questo tratto vertica Ancora Crocs Crocs on the rocks Via Di nuovo Parabolica Yes Wow Bello ragazzi Bello 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 Open fire Guarda qua Guarda qua Che sound Spettacolissimo ragazzi Mamma mia Senti come Sbatte sotto le gomme Questo trail Wow Abbiamo un little flow Leggermente crocante Con qualche Raduccioio Guardalo qua Guardalo qua Adesso si che la pompiamo bene Un little Sponda Con Anaconda Ancora Ragazzi Che Magnifico Sound Uh Bello 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 C'era un saltino Ma L'abbiamo evitato Guarda qua che bogey bogey Uh Wow 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 Che dire Mille e una notte Mille e una notte Non è velocissimo Ma è sicuramente Tecnico il punto giusto Salate con dito Oh yeah Guarda qua Guarda qua Le pieghe Uh Mamma mia Bello 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 Adesso questo punto Little rocks One Wonder Passaggi davvero Su Abbiamo un rocks Allentiamo Lasciamolo Scivolare giù Con Maestria Bello Bello Ragazzi Bello Ora Un little taps Wow Ancora taps Mamma mia Qui si tocca Davvero La coppa del Motore Uh Adesso abbiamo Un altro little taps Dove farla scorrere Giù Bello Wonder Wonder Attenzione Doppio Swing Uh Per uno E uno Due Wow Signalazione Perfetta Guardalo E certo Un sentiero Non banale Dove venire Ad accendere La propria voglia Di mille Emozioni On bike Guarda ancora Pompas Guarda che vertica Ragazzi Cerchiamo la traiettoria giusta Impostiamola Yes Wow Super Uno Due Tre Quattro Yes Vai pompa ragazzi Dai che Lo stiamo portando a casa Veramente un pistino con i fiocchi Ci hanno lavorato bene Ed hanno ottenuto Un ottimo risultato Ultimo colpo di tamburi Pompa uno Pompa due Pompa tre E via Ancora Up and down E up and down Ora verticalone Micidiale Guardalo qua Nel cannellone Lavoriamo bene di più Scendiamo di qua Wow Hanno messo le spugnette Per il sudore Mamma mia Qui si suda Più indecisi In questo tratto Bello ma Ragazzi intenso È veramente intenso È veramente intenso Una roccia Ferma Ma incazzosa Stop trail Lo dice anche il cartello Del resto Bene 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 Giunge il momento Dell'ultima discesa di oggi Siamo nel dianese A Diano Marina Ed ora affronteremo La discesa dei Maiali Come vedete Alle mie spalle Mettiamo già Un primo Suino Che ci avvisa Che non sarà una discesa Troppo difficile Ma neanche troppo facile Quindi Mettiamola giù sul medio Eccolo qua Ci risponde Piggy Uh Boggy boggy Yes Bello ragazzi Bello Bello Double trick Double trick Wow Uh Abbiamo scelto la linea Quella più hard Ovviamente Non poteva essere diversamente Perché se dobbiamo Se dobbiamo provare questi Sentieri Dobbiamo provare le linee Più interessanti Ma c'è anche una chicken line Sulla sinistra Bello Wow Via Voda Open fire Un po' di Rock Bello ragazzi Bello La forca 180 Attutisce Tutto Super squarna Hard cross 2 Io la chiamerei Hard cord Più che Hard cross Ributiamo giù il muso Della bimba Scruvolosa Bello Guarda ragazzi Una roccia bellissima Bella Bella Nulla da dire Aspettiamo Le traiettorie Il più pulite possibile Guardate qualche bozi Dove lasciarla Scivolare Ovviamente È la prima volta Che la facciamo Quindi Le traiettorie Le vediamo oggi Venirebbe a farlo Un paio di volte Per lasciare La scuola Un po' di più Questo tratto Ma Nulla da dire Grande scesa Fino a questo momento Bello Bello Super super Stiamo a su vista Guardate che Menati di culo Uh Ed ora Ritorniamo in sede Yes Wow Bello Bello Ragazzi Bello Mi piace Che piace Che piace Uh Wow Wow Bella segnata Bella divisa Guardate che Nulla da dire Anche qui Lavorano molto bene Ed ora Un piccolo Pistino Up and down Guardate ragazzi Wander 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 Bello Wow Ora siamo lenti Ma usciamo veloci Bello Guardalo qua Che passaggio Cornificante Ed ora di nuovo giù Giù Wow Guarda Che Parabolica Bello Super ragazzi Super Uh Nulla da dire Pompa Ripompa 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 Ancora Wander Wander Ragazzi Bello Passaggio Crocs Bogie Bogie Ci piacciono Ci piacciono Anche rocks Da allora Abbiamo il punto Il punto roccioso Anche qui Traiettoria Da Disegnare In maniera Perfetta Per affrontarla In maniera Corretta Ora abbiamo Il tratto Vertica Rocks Mi raccomando Teniamola Bravita Ok Così Grandi Ragazzi Grandi Che ce la Tipiamo Anche questa Guarda Buona Buona Intensità Abbiamo una buona Intensità In questo momento 180 davanti Vivora Rocce Anche di Viano Wuuu Nulla a dire Territorio Magnifico Anche qui Nel Vianese Guarda Wander 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 Rocks Fino Rocks Dai 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 che bello Dici Su Nulla da dire Le emozioni Di questa settimana Non finiscono più È un pistino Davvero Ben curato Ben Manutenzionato Un Luna Park Anzi Direi Un Luna Park Visto che siamo Sui maiali Un Luna Park Lo chiameremo Guarda Mamma mia Infinito Infinito 1200 Vengo Ben spesi Ora Di nuovo Passaggio Wow Grazie Questa roccia è stupenda Yes Wow Scudatina Ecco il bogey Guardi Grande ragazzi Garanti Wow Bella Bella Salto Wow Il bugotto Il bugotto Uh Bello passato Anche qui Linee tutte Belle Intense Croccanti Mottenanti Uh Guarda qua che Lastra Licida Apri chiudi Apri chiudi Guardala Guarda che Traitoria Spettacolare Che ci ha disegnato La nostra Gombona La nostra Schwalbe 2.4 Sulla Bellissima Usquana Uh Uh Parabolica Yes Guardalo qua lo snake È arrivato finalmente Pietre 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 Mamma Quanta Pietra Intimissima Che abbiamo Attorno a noi Guarda qua Quanto sculetta Ragazzi Quanto sculetta Questa Usquarna Le sta Mangiandovi tutte le rocce Incredibile Anche perché con il 170 dietro È sempre Una maggior garanzia Abituati al 150 Della Raymond Siamo a 170 Superbike Fino l'ultimo ragazzi Fino l'ultimo metro Anche oggi Magic Show Sentiamo Il profumo di sale Di nuovo discesa Ora Passeremo sopra o sotto L'autostrada dei fiori Guardate com'è Bello Delineato Rocks Wow Raga raga Pericolo danger Ancora Maiali Maiali qui Maiali là Maiali che sgrufano Lappertutto Wow Guarda raga Ora abbiamo Una fediazione a destra Sempre rocks Bello Andiamo sulla Jump line Uh Salto Questo è troppo grosso Non ce lo permettiamo Chicken line Easy line Siamo in questo momento Al fianco D'autostrada Ma noi scendiamo ancora Guardate che vertical moment Uh Watch Freni fumanti Freni eccitanti Bello Guarda ragazzi Guarda che Ultimo trato vertical Che ci risalda Questo trail Davvero Direi Piccante Fino alla fine Uh Guarda Dai ragazzi Oggi L'abbiamo Finalmente Quasi portata a casa Aspettiamo Cantare vittoria Abbiamo l'ultimo trato Di Pietro Montser Bello Facciamola Galleggiare Yes Bello Qua Guarda qua Che pietra Guardate che pietra Bello Leggeci un feu ragazzi Leggeci un feu Bene Allora Finisce anche questa puntata Oggi abbiamo fatto un super tour Siamo partiti da Lassio Siamo andati all'Aiguella Siamo andati a Andorra Ed infine Diano Marina Veramente uno spettacolo Discese super croccanti Intense Abbiamo fatto tre salite E tre discese Vi ricordo Se vi è piaciuto il video Di mettere un bel mi piace Qua sotto Iscrivvi al nostro canale E soprattutto Iscrivvi alla pagina Facebook Ma anche quella Instagram Ragazzi Alla prossima Yeah